Sì, guardavi? Siamo tornati in un nuovo video di uno spacchettamento di FIFA e oggi ci apriremo un oro premium maxi apriamo un pacchetto primo pacchetto oro premium maxi più popolari alla sport no, ma io dico perfetto, non abbiamo trovato niente non capisco dove mettere non abbiamo trovato niente mi dispiace nel pacchetto oro premium maxi che era quello più raro ora ci aspetta l'oro premium apri tre rari, comunque questo è buono oro no, vabbè salviamo tutto nel club tra l'altro ce l'avevamo anche doppione lo scartiamo ora andremo a aprirci due oro premium uno tac vediamo cosa ci viene fuori flamini che già ci abbiamo, credo no scartiamo un po' di persone poi ci apriamo un altro pacchetto and stack flamini non lo scartiamo scartiamo sto allenatore che non ci serve a niente boh allora ragazzi adesso io vorrei aprire un altro pacchetto con voi perché perché non abbiamo ancora trovato niente però apriamo il pacchetto ci vogliono i crediti no sì dai segniamoli tutti anzi no usciamo da qua aspetta club aspetta aspetta qua c'è lo stemma del barcellona la maglia del buyer io direi staff andiamo a scartarci pochettino un secondo che vi dico anche una cosa ci vediamo su un altro spacchettamento se volete su sempre su fifa di di sera credo non lo so e per cercare di trovare qualcun altro un po' più buono che in questi spacchettamenti ne è uscito un altro sul mio canale andatelo a vedere non abbiamo trovato niente assolutamente ok andiamo a aprire un altro pacchetto tac aprirci un altro pacchetto ultimo negozio ottieni pacchetti se magari questi qua ho pacchetti regolari 7500 così credo che li vedete meglio no? spero 7500 regolari scusate se giro il tablet ma ci sono dei problemi che il tablet la parte destra non va questi qua salviamoli tutti ecco come vedete la parte destra non va perché sto tablet è vecchissimo ed è una gran merda ottieni pacchetti ecco qua pacchetti regolari da 7500 ok raggi più o meno potrebbe andarci ok ragazzi questo spacchettamento finisce qua non abbiamo trovato niente ci vediamo in un prossimo video bella grazie a tutti